Grazie. Grazie. Allora, chiaramente essendo dei Babis dobbiamo premiare, vogliamo premiare il primo abisino arrivato. E Davide Anselmi. Davide, tutti noi siete. Grazie. Abisino. Vedete come corrono gli abisini? Grazie mille. L'Avis di Leonardo Cepino e gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e vi ricordo l'anno prossimo ci sarà ancora e per chi non... daremo anche le bombole d'ossigeno, va bene? Anche per chi arriverà ultimo, penultimo, poi abbiamo la dottoressa Papetti che sta facendo la chiusura. Quindi di conseguenza ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Non dovresti capire che siete legati... La prima volta è vero un po' di... Ma si, ma dentro c'è la giusta. Tu quando vedi che c'è la giusta. Ciao. No, che stanno facendo. 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 Ciao ragazzi. Non c'è la giusta. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti.